ciao a tutti ragazzi bentornati al tre chiacchiere con oggi siamo con David Messina grazie mille per aver accettato grazie a te allora come ti dicevo prima di cominciare eh questa è impegnativa perché eh tu veramente di cose ne hai fatte una valanga ehm allora io ho visto diplomata alla scuola internazionale di comics ma prima di arrivare alla scuola internazionale di comics ci sarà stato un inizio da qualche parte a magari alle elementari magari guarda in realtà sì esattamente alle elementari perché io ho iniziato sempre con una grande passione per il fumetto americano e mia madre mi racconta sempre che da piccolo le chiedevo di comprarmi l'uomo ragno in particolare che era il mio personaggio preferito prima ancora che imparasse a leggere e chiedeva a lei di leggermi i balloon per cui ho avuto sempre una passione per il fumetto in particolare il fumetto americano ancora prima che disney bonelli e tutti gli altri e dopodiché eh ovviamente durante le elementari avevo questa passione per il disegno ma non avevo mai pensato all'idea del fumettista come lavoro da bambino i miei lavori erano fare il supereroe l'astronauta l'archeologo insomma tutti quelli di default per un bambino e mentre invece l'idea di fare il fumettista mi è balenato intorno agli undici anni e passai un' estate con una varicella che mi aveva impedito di andare a giocare con gli altri bambini e l'unico bambino con cui io interagivo che aveva avuto anche lui la varicella era questo bimbo che aveva una grande passione anche lui per il fumetto e che viveva alcuni mesi all'anno in america ed altri in Italia per via del lavoro del padre per cui aveva accesso a tutti i comic book che all'epoca è l'epoca di interregno che va dalla corno al ritorno del della marvel in italia con la star comics era l'unica persona che mi poteva capitare di incontrare che avessi ancora accesso ai fumetti marvel e quindi lui mi raccontava soprattutto parlava la tua lingua cioè nel senso che amava il fumetto americano e quindi esattamente per cui mi ricordo che mi raccontava le storie che leggeva come si erano evolute le storie degli x-men e dell'uomo ragno e via dicendo e io cercavo di ridisegnare le cose che lui mi raccontava perché mi affascinavano queste storie a cui non poteva accedere non stiamo parlando di tanti anni fa ecco diciamo che ho gli anni che ho e quindi quando avevo undici anni non c'era niente di vagamente simile non solo ad internet ma anche solo a dei negozi di fumetti e per cui ecco mi ricordo che passai un'estate così cercando di ridisegnare le storie che lui mi raccontava tornato a Roma cominciai a girare per tutte quelle che erano le fumetterie dell'usato che si trovavano nella mia zona o comunque vicino a casa mia per riuscire a poche 2000 esatto poche 2000 e la casa del fumetto a viangelo emo esattamente non erano tantissimi quindi è di Roma e quelli erano quelli erano per cui compravo tutto quello che trovavo della della corno e cercando di diciamo leggere quanto più possibile finché non mi capitò poi di rivedere il ritorno in edicola prima con la labor comics e poi con la star comics di quei personaggi da lì tutto il percorso che ho fatto la scelta del liceo artistico e poi in seguito della scuola internazionale di comics dove mi sono iscritto erano proprio mirati a diventare un disegnatore di fumetti e invece intorno a te qualcuno si era accorto che c'era del talento nel disegnare oddio non saprei e tolta una maestra una professoressa a scuola in realtà un po' c'era questa cosa soprattutto nel liceo anche perché ho fatto il liceo praticamente con diciamo una classe un po' particolare io avevo nella mia classe il il nipote di cascella lo scultore e quello che adesso è noto come Matteo Basile il fotografo e c'era Alessandro Gianvenuti il figlio di Marcello Gianvenuti il fotografo di Schifano per cui eravamo una classe dove comunque si respirava molto arte passione per il fumetto passione per la pop art cascella del premio cascella sì che adesso c'è il premio che c'è pensa che io faccio un format il lunedì sera sull'arte con il curatore del premio cascella che Alessandro Passerini quindi si chiude il cerchio per cui ecco diciamo che con loro c'era molto questa cosa del anche delle passioni che condividevamo del fumetto della musica della pop art e e quindi anche con i professori c'era un bel dialogo e molto incentrato non solo sulla storia dell'arte e l'arte nella sua accezione più classica ma anche in tutte le sue derive di pop e legata al fumetto all'animazione e a quant'altro e quindi diciamo che sì tutto il liceo è stato un percorso che ha nutrito questa mia passione questa mia conoscenza e d'altra parte c'avevo la mia famiglia che mi appoggiava che mi ha sempre appoggiato tantissimo che non è poco no assolutamente io sono un pochino più grande di te però gli anni quelli sono fare il fumettista cioè era trovato un lavoro serio non fare il fumettista quindi no la mia fortuna è che mio padre è un pittore e lillo messina e quindi in quanto tale capiva la mia passione per il disegno per l'arte e mia madre ha sempre incoraggiato sia il lavoro di mio padre che l'idea che noi figli seguissimo qualcosa che ci piaceva il che mi ha permesso di avere sempre la mia famiglia alle spalle con un approccio un po' spartano perché quando decisi di scrivermi a scuola per essere sicuri che non fosse solo una passionaccia ma fosse qualcosa di serio la condizione era che me la dovevo pagare da solo e per loro era un po' una prova per capire se davvero volevo fare questo e quindi nel caso fosse stata un amore passeggero facevo in tempo di scrivermi all'università a mollare tutto o invece se continuare in questo percorso per cui ecco tutta la scuola di comics me la sono pagata da solo è che è già comunque una una prova da da dal lavoro che poi viene dopo perché poi un fumettista è un libro professionista è una persona che deve cominciare a pensare al suo lavoro alle scadenze a a non è uno stipendiato quindi già la responsabilità partiva già dalla scuola di 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 comics insomma quindi era proprio un discorso di disciplinarmi e anche di mettere un po' alla prova la fermezza delle mie convinzioni e e quindi a quel modo mi hanno messo in una situazione fra parentesi un po' difficile ma che anzi ancora di più mi ha convinto che quello era il mio percorso e la mia strada ok e da pittore come vedeva i fumetti papà a lui ha sempre apprezzato questa cosa perché un po' temeva che io seguissi le sue orme e lui questa cosa dei figli che facevano i pittori come padri lo ha sempre lasciato un po' perplesso e non gli piaceva dall'altra per lui è stata la scoperta di un mondo che ignorava completamente cioè quello dell'arte applicata ovvero dove la creatività però poi al fine della creazione di un albo di una storia e anche di un franchising come citavamo prima star trek e per lui era completamente un mondo nuovo per cui papà questa cosa la l'ha molto apprezzata perché è stata la scoperta di una realtà tangente alla sua ma diversa e ha sempre mostrato un enorme rispetto mi ricordo quando venivano a volte i suoi clienti i collezionisti d'arte a casa perché lo studio di papà era a casa che ovviamente vedevano il fumetto come qualcosa di serie B e invece mi pareva in maniera molto sena dicendo no non è una deriva dell'arte è un'altra forma d'arte ha sempre riconosciuto questo queste importanze e questo peso del fumetto come forma d'arte ma anche perché è così assolutamente ovviamente non tutti i fumetti perché poi nel mare c'è anche però è comunque una forma d'arte molto importante ci sono delle opere a fumetti che sono delle opere d'arte proprio quindi ma come non tutti i quadri sono opere d'arte non tutte le sculture sono opere d'arte esatto assolutamente e quindi dopo la scuola internazionale di comics come è cominciata questa perché io la prima cosa che c'ho ho 2007 però non so se è proprio la prima cosa no in realtà c'è un percorso un po' particolare perché parallelamente alla scuola di comics ho collaborato con quello che era il Punisher Fan Club che realizzava questa fanzine chiamata era qualcosa con quaterly nel nome e praticamente era una fanzine che usciva ogni quattro mesi dove loro pubblicavano un po' di storie di autori esordienti mi ricordo che con me là sopra c'era Luca Bertelè ora in forza Labbonelli e Max Bertolini anche lui in forza Labbonelli se non ricordo male anche Matteo Resinanti anche lui in forza Nathan Never ed era praticamente una fanzine con la quale io collaboravo che veniva distribuita in giro per le fumetterie a mano era proprio una roba fotocopiata e ciclosimata e mi ricordo che ai tempi si parlava del fatto che vendesse poco perché vendeva 400-500 copie considerando come sono cambiati i numeri fa impressione pensare che quella era una roba fotocopiata e portata a mano nelle fumetterie e dopodiché ho lavorato per alcuni anni come grafico visualizer per diverse case pubblicitarie italiane dall'Armando Testa a soprattutto la Big Carro Team con cui ho collaborato per due tre anni mentre facevo tavole di prova per poter lavorare appunto in Italia ricordiamoci che siamo non era pre internet l'America era qualcosa di enorme a cui erano arrivati all'epoca solo Pino Rinaldi Castellini e tramite la Marvel UK per cui riuscire a ad arrivare a raggiungere quella parte dell'oceano era estremamente difficile la mia idea era quella di mettermi da parte un po' di soldi cominciando comunque a lavorare in Italia per poi andare almeno qualche settimana in America e provare a portare le mie tavole in Marvel e per cui ecco mentre facevo le tavole di prova per per riuscire a lavorare in Bonelli alla Star Comics all'epoca ho avuto modo di poter esordire con 2700 e con Manfredi Toraldo e il gruppo della Piuma Blu e appunto ripeto con Manfredi che ormai è un fratello un amico da una vita proprio e sì anche perché chi è più chi è più giovane oggi uno pubblica le cose scrive una mail e pubblica su Twitter e dopo tre secondi lo vedono in tutto il mondo e all'epoca eravamo nell'epoca del Modem a 56k quindi dove dove per mandare una foto per per visualizzarla una foto ci volevano tre quattro minuti quindi non esisteva il concetto di mail e lasciamo stare poi quello dei social network che è stato qualcosa che appartiene più all'internet 2.0 ma all'epoca mi ricordo ancora che farsi un archivio di immagini per avere foto di New York andavi nelle nelle agenzie di viaggi di facilitare gli opuscoli di New York e utilizzavi quello come definito. A cavolo questo non ci avevo mai pensato. Sì sì noi facevamo così tutte le nostre archivie di immagini. Fichissima questa mi hanno parlato i vari disegnatori mi hanno parlato di libri di riviste però i cataloghi dei Getsy Viaggio non ci avrei mai pensato. Tu considera che stiamo parlando di un 19enne con pochi soldi per cui dovevo inventarmi qualsiasi cosa. Geniale. Era prendere appunto i cataloghi dell'agenzia di viaggi per poter avere le foto di New York e accumulare un po' di riviste che magari andavo a prendere ecco da poche 2000 riviste sulle automobili mi facevo tutte le foto archiviate per tipo di automobile per poterle disegnare e dovevi un po' ingegnarti per riuscire ad avere delle reference che fossero credibili e soprattutto non spendere un patrimonio. Poi man mano che uno aveva un po' più di possibilità economica ti andavi a prendere libri o comunque materiale diciamo cartaceo un po' più strutturato. Però sulle cose che cambiavano velocemente come una città come New York o come le automobili le riviste erano la nostra fonte di immagini. Erano più immediate. Esatto. Certo. Ma e tutto questo archivio oggi? Tutto questo archivio ormai è stato buttato anni fa con appunto il mio primo computer nel 2001-2002 e adesso ovviamente è tutto digitalizzato a parte che ormai è tutto in tempo reale e anche se io ho ancora un certo affetto per la carta ce l'ho per cui adesso prima di iniziare il mio nuovo progetto che ho inventato negli anni 40 mi sono ordinato due libri di Norman Rockwell e libri di bestiario di cataloghi delle degli abiti degli anni 40 e per cui mi piace ancora poter avere accanto qualcosa di cartaceo da consultare mentre disegno. Certo no però penso a questi archivi che poi ovviamente uno per questione di spazio per questione poi alla fine se ne libera però insomma che raccontano tutta una storia insomma perché poi uno quando guarda si ricorda ecco i cataloghi si ricorda quando li andavo a prendere insomma quindi deve essere un viaggio insomma quindi è bellissima questa cosa. E come è stata questa esperienza con 2700? Cioè nel senso è stata la prima in cui uno deve fare le tavole, deve fare un lavoro. Eh sì, di ricevirti questa sceneggiatura ricordo che in realtà l'esperienza fu particolare perché io mi staccavo molto dagli altri disegnatori di 2700 avendo anche un'impostazione meno classica, meno da fantasy e lavorando più di sintesi e di un approccio americano e con Manfredi in realtà si era creato subito un ottimo rapporto quindi mi dava anche una certa libertà per quello che riguardava l'interpretazione della sceneggiatura e d'altra parte cercavo di caratterizzare la tecnologia di 2700 e tutti gli elementi in una maniera più simile al mio stile, alla mia visione delle cose e quindi c'era un questo ehm questa difficoltà nel reinterpretare a mio modo la loro tecnologia e i loro elementi senza mai tradirle che poi è rimasto un po' come cifra stilistica io in generale quando lavoro cerco sempre di reinterpretare ma di non stravolgere mai quello che trovo e proprio per rispetto a quello che il pubblico che segue quel fumetto o quel franchise o quel video. Mi sembra l'approccio l'approccio più giusto e rispettoso nei confronti del lavoro che uno sta facendo insomma quindi mi sembra la la cosa più più logica da fare insomma non tutti lo fanno però uno cerca magari proprio di metterci il suo di però rischi di snaturale poi quello che è quello la mia la mia idea di tecnologia era differente dal da quella dei creatori eh di 2007 però 2007 era una serie amata molto popolare in Italia non potevo arrivare io a fare come mi pareva a me dovevo adeguarmi a quelli che erano gli standard estetici ma cercare un modo nella resa e nelle sintesi che fossero più vicine alla mia sensibilità. Eh certo no bella sì un approccio intelligentissimo e dopo 2700 eh c'era non c'era ancora l'America? No 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 c'è stato Lazarus Led con la Star Comics. Ah ok che tra l'altro non non me lo ah non ecco beh bene su Comics Box non c'è proprio Lazarus Led. Perché di Lazarus fece in realtà solo uno speciale e diviso sono così precisi. No no fece uno speciale le mille luci di New York e dopo una corte lunghissima perché a Date Capone avevo fatto una marea di tavole di prova dovevo lavorare in origine su Morgan e la Sacra Ruota e poi la cosa saltò per quella fine ci aggiustammo su Lazarus Led e poi sanamente Ade mi chiese di non di continuare a collaborare con la Star Comics ma con la Liberty. Con la Liberty ho fatto Core One. Core One. Secondo albo e della seconda stagione di Core One. Ho realizzato una storia scritta e disegnata da me sempre per la Liberty e per cui ecco ho avuto queste collaborazioni con Ade e questo parentesi appunto di lavoro con lui e già cominciavamo a trovarci verso la fine degli anni novanta tra una cosa e l'altra. Io continuavo ovviamente a cercare di rompere il muro con l'America facendo delle prove e mandandole via posta in DC, Marvel ma ovviamente non ottenevo nessun tipo di risposta e nel frattempo mentre lavoravo su Lazarus e con la Liberty avevo fatto anche delle prove per Bonelli per Jonathan Steele. Ah ok perfetto e poi vi so allora la prima cosa per l'America invece che cosa che cosa era allora che hanno fatto un macello con non le hanno messi in ordine sto sto diventando matto perché vedo un numero zero di Nemesis. Sì che in realtà come funzionava a un certo punto e proprio in questa fase in cui avevo fatto le prove e per Jonathan Steele in realtà dovevo disegnare un numero di Jonathan Steele tant'è vero che poi uscì questo numero con i personaggi creati da me ma realizzati da un altro disegnatore non ho mai capito perché da che era talmente sicuro che interassi che Federico mi aveva già chiesto di creare personaggi è saltato tutto con nulla di fatto. Però stavo collaborando avevo iniziato a lavorare con la Indie Press di Michele Foschini e a Michele era piaciuta l'idea originaria di Cyber Drops che era il fumetto che avevo fatto con la Liberty e mi aveva chiesto di svilupparlo di ampliarlo in un progetto più mio di cui curassi anche i colori e non solo e test e disegni. Realizzammo questo numero uno e in realtà io disegnai anche completamente il numero due e nel frattempo successe però che numero uno non andò assolutamente bene che dove l'avranno comprato cinque persone e sono tipo le uniche copie che stanno in giro in Italia. Però contemporaneamente successe che Michele aveva preso i diritti anche di alcuni prodotti americani come per esempio Invincible che pochi ricordano fu portato in Italia proprio dalla Indie Press e prese quindi Invincible, prese Savage Dragon e nel frattempo aveva anche commissionato delle cover ad autori come John Bourne o altri disegnatori americani e quando ha mostrato degli esempi di colori, di come potevano essere colorate le copertine ero stato scelto io come colorista perché ero piaciuto a questi autori finché a un certo punto la Davis Doe della quale non ricordo che fumetto avesse preso Michele che era pubblicato dalla Davis Doe all'epoca e contattò Michele Foschini per chiedergli di mettermi in contatto con loro perché mi volevano come colorista sulle loro serie quindi cominciai a collaborare prima con Jay Joe come colorista e con Tim Sealy e poi su Voltron e la Davis Doe ho colorato un intera run credo sette otto numeri della serie di Voltron senza però riuscire mai a passare dal ruolo di colorista a quello di disegnatore. beh quindi che anno di che anno stiamo parlando? E adesso stiamo parlando dei primi anni 2000 perché 2001-2002 esatto più o meno quello stiamo parlando di tutto quegli anni che vanno dal 2000 a 2005 alla fine del 2000 dove c'era appunto Arcana Mater esatto nel 2001 Arcana Mater con lo Scalapeo San Juan eccetera eccetera esatto e nel 2003 per la Francia una serie di questo mi incuriosiva molto una serie di volumi erodici per il mercato francese spagnolo e statunitense. Esatto e lì cominciai a collaborare in realtà intorno al 2001 con questa gente Andrea che si occupava di portare appunto autori per una rivista chiamata le le pudre si ricordo bene era un magazine che poi fu anche riadattato in Italia dalla Coniglio Editore e e quindi comincia a fare dei racconti brevi prima un racconto per due racconti finché non piacciono all'editore e mi chiesto di realizzare dei volumi quindi i racconti cominciavano ad essere legati fra di loro da una trama e devo dire che si lavorava in maniera abbastanza tranquilla piacevole un po' per l'ottimo lavoro di Andrea che faceva anche da traduttore e oltre che da da gente un po' anche perché comunque gli editori lavoravano sulla qualità del disegno ma ti lasciavano abbastanza in pace. Il problema è che dopo il secondo volume che però equivaleva credo al mio diciottissimo racconto erotico avevo completamente esaurito le idee e le combinazioni possibili per cui lì ho gettato la spugna e ho detto ok non so più che cosa inventarmi. Ok e che tra l'altro stavo pensando prima l'Italia poi la Francia e quindi c'è questa America stava lì che che continuava a farsi desiderare insomma. Da morire da morire. Però nel tempo hai accumulato un'esperienza tra il disegno il colore l'illustrazione il disegno è e a vari tipi di fumetto poi perché da da dal fantasy all'erotico al quindi comunque cioè nel momento in cui è arrivato all'America di esperienza ce n'era tantissima in vari campi. Guarda di mezzo ti dico anche purtroppo ho perso tutto il materiale c'è stato anche il la fantascienza francese perché a un certo punto nel 2004 credo fui contattato dalla degli umano di associati che mi avevano affidato una serie di tre volumi chiamati Repubblica con la cappa e già scritti avevo già le sceneggiature era una serie di fantascienza distopica e di improntatin e avevo realizzato gli studi degli undici protagonisti più le prime quindici pagine e poi il prodotto il progetto è stato completamente abortito non se ne è fatto più nulla sempre in quel periodo cosa di cui non si sa nulla anche se ho postato qualcosa sul mio blog e entra in contatto con Jim Lee che all'epoca vive in Italia Jim voleva rilanciare Gen13 per cui mi sei in contatto con Scott Dambier e con Scott feci un redesign di tutti i protagonisti di Gen13 dovevamo lanciare la serie anche lì il progetto fu completamente abortito e però in questo caso la Wildstorm Scott e Jimmy mi pagarono comunque tutto il lavoro e fu tutto quanto pagato cosa che non fece la Francia con gli umaniati associati invece loro mi pagarono il lavoro di design e di restyling ma anche lì purtroppo fu nulla di fatto che poi il dolore credo per un per un artista è creare un mondo creare e poi non vederlo nascere intanto sì i soldi sono comunque una cosa importante perché uno lavora per i soldi per la passione ma ovviamente purtroppo ci servono i soldi però insomma penso anche alla alla difficoltà proprio alla tristezza insomma la di di un autore che lavori lavori fai crei e poi non non riesce a a vederlo pubblicato insomma è un peccato insomma è terribile un'altra cosa che andò a vuoto sempre in quegli anni che vanno dal 2001 al 2004 fu che fui contattato da Scott Ali della Dark Horse perché c'era stato un ritardo fra il numero sei e fra il numero cinque numero sei di di Frey la serie scritta da Joss Whedon dove si raccontava della cacciatrice del futuro Scott mi contattò per proseguirla feci delle prove feci due tavole di prova rimasi impredicato per un po' finché Whedon rispose dicendo che gli erano piaciuti gli studi e stavo messo bene in linea con lo stile di Carmoline che era il disegno dell'ufficiale ma che nel frattempo a causa del ritardo di Whedon era passato a lavorare alla crossgen ma che dato che era il suo lavoro d'esodio e lui non voleva cambiare disegnatore nella sua prima serie come sceneggiatore di fumetto e preferiva aspettare che nei ritagli di tempo fra un numero e l'altro di Route 66 di della crossgen Moline trovasse il tempo per chiudere gli ultimi due capitoli di Frey e quindi anche in quel caso fu nulla di fatto che purtroppo non portò a nulla ma compresi le motivazioni di Whedon che mi sembravano sacro sanne assolutamente però mi dispiaceva perché ero un grande fan di Buffy e l'idea di chiudere quella serie mi piaceva da morire eh io ho le mie cose più importanti ce l'ho no forse qualcosa ce l'ho lì forse qualcosa ce l'ho lì dietro eh sì lì dietro tra Picard e il coso ci sono anche eh c'è c'è anche Buffy e e poi lì c'ho insomma c'ho le le uno a sei di di Angel e di Angel in costume ottocentesco e di di Buffy col trench rosso e il pugnale insomma io ero andato fuori proprio di testa per Buffy ma chiedo un po' tutti eravamo andati fuori di testa per Buffy e Angel erano delle serie amatissime in quegli anni cioè adesso pensare quello che è successo a Whedon e ricordarsi gli anni in cui la gente andava in giro con la maglietta con scritto Whedon is my master fa un certo effetto è vero e però eh chi lo vede oggi c'ha allora c'avevano un po' di ingenuità ogni tanto le serie e c'hanno un po' di di eh anche nel i cattivi nel eh però era è il fascino di era il fascino di quella serie lì era il fascino di cioè con con tutti i come quando vedi i vecchi film di fantascienza dove vedi che il mostro è un po' di gomma però è però è quello è nato così ed è così ma quello che sorprendeva era la scrittura straordinaria con la quale ogni volta che magari si andava un po' la deriva perché lui si assentava per altri progetti i personaggi prendevano delle eh direzioni che non eh che erano un po' fuori out of character la capacità di Whedon di riprendere e riportare tutto in linea era fantastico. Sì è vero assolutamente e mh bellissime eh con con degli con degli spunti drammatici con degli spunti comici con degli spunti c'era di tutto cioè in 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 baffi ridevi, piangevi, ti divertivi eh senza contare le puntate speciali quelle musical, quelle di Halloween, dei dei gioielli della televisione secondo me assolutamente. Ehm quindi il primo lavoro con l'America duemilacinque con la IDV. Sì in realtà con la IDV, con la DW ci arrivai perché appunto era saltato il progetto con eh con eh la Wildstorm e Gentiletici. Poi Jim e mi mise in contatto con ehm eh un'altra sceneggiatrice Alex De Campi per un altro progetto con gli umanoti associati e dove però fu preferito un altro disegnatore perché pulevano uno stile meno grafico e più pittorico. Ehm questa sceneggiatrice Alex De Campi dispiaciuta per la seconda volta sapeva già che era saltato il progetto con eh la Wildstorm eh Scott e Jim Lee e mi mise in contatto con un suo amico che era appena diventato editor di questa piccola casa editrice che cercava un disegnatore proprio per realizzare il sequel di una serie televisiva chiamata Angel. Alex non sapeva se noi in Italia l'avevamo visto o meno per cui era divertente il fatto che lei me ne parlasse come di qualcosa di cui io non avrei dovuto conoscere nulla non sapendo che invece io ero un grandissimo fan della serie. Avevo imparato quel poco d'inglese proprio guardandomi la serie DVD in lingua originale di Angel due volte per imparare un po' d'inglese e avevo già fatto studi disegni dei personaggi e proprio per quel contatto che aveva avuto con Scottaglia all'epoca e perché all'epoca appunto Angel era della Dark Horse che però poi persi i diritti e passarono la DW quindi in realtà mi ritrovai che avevo già tutto il materiale pronto per questo editore del questo editor di questa piccola casa editrice che poi era Chris Ryan col quale nel corso degli anni è nata una bellissima amicizia e tuttora collaboriamo insieme e a questo punto del percorso a quando è che hai capito in questo percorso che si poteva fare come lavoro? Ma io in realtà che si potesse fare come lavoro lo avevo sempre pensato e perché lo vedevo avevo modo di andare a Lucca io vado a Lucca dall'età di 13 anni per cui vedevo i professionisti vedevo gente che viveva di fumetto quello che per me è stata una rivelazione dovuta soprattutto al cambio di paradigma tecnologico è stato il fatto di poterlo fare con l'America che ovviamente per me era l'ostacolo più grosso e la cosa più difficile da raggiungere e poterlo vedere invece che era raggiungibile che potevo finalmente arrivare dall'altra parte dell'oceano è stato è stato già il primo approccio con la indie press ma ancora di più quando mi sono ritrovato a fare la mia prima miniserie appunto quella di DW io ho detto ok ce l'ho fatta sono arrivato dall'altra parte ora devo muovermi qui però comunque sono arrivato dall'altra parte dell'oceano ancora senza mettere piede fisicamente perché io andai in America solo due anni dopo che lavoravo per DW la mia prima volta a New York fu nel 2007 ed erano già due anni che ero disegnatore di DW e quindi quindi lì hai detto ok ho messo un piede di là e adesso ce la ce la possiamo fare insomma è un lì già allora tu adesso disegni in digitale o in o su carta? Tutte e due io realizzo copertine splash page e anche magari quelle tavole dove ci sono delle vignette che in qualche modo sono particolarmente grandi e catturano l'occhio e quindi hanno anche comunque un valore estetico e non solo narrativo le realizzo su carta mentre invece tutto il resto lo faccio in digitale ok un po' per una questione di velocità ma fondamentalmente perché spesso e volentieri ci sono tante modifiche da fare e farle su carta diventa molto veloce anche i tempi americani sono molto più ristretti sono molto più frenetici ma non è tanto un ritmo frenetico in quanto tale perché in realtà i ritmi sono anche tranquilli c'ha cinque settimane per realizzare 20 tavole in bianconero e tranquillo è che per esempio quando lavori su star trek o star wars spesso ti ritrovi a dover rimettere mano sulle tavole a dover fare delle modifiche a cambiare dei personaggi e quindi tutto questo richiede continui rimaneggiamenti della tavola e per quello che invece per quello che riguarda le splash page che tutto sommato come le copertine mi permettono di fare una matita definita avere l'approvazione della matita e poi andare a lavorare sul cartaceo definitivo quando invece lavori sulle tavole ovviamente ci sono tanti cambiamenti dovuti anche proprio allo storytelling alla narrazione a delle variabili che sono molto più difficili da verificare prima e anche perché fare una matita molto definita prima richiede comunque più tempo rispetto a poterla definire in digitale in fase di inchiostazione certo e ma quando hai cominciato l'approccio al digitale con l'america o già no io in realtà l'approccio al digitale l'ho cominciato tre anni fa perché io fino al 2019 facevo tutto su carta mi impostavo dei layout di massima su in digitale che voleva dire farmi la gabbia fondamentalmente e se utilizzavo dei modelli sketch up prendere e metterli direttamente sul nella vignetta per poi rimodificarli e rinchiostrarli poi stampavo quelli che si chiamano i pallidi o i blueprint cioè stampavo la tavola tutto in toni di blu in modo tale che ci potevo ridisegnare sopra con la matita poi inchiostravo o lo affidavo a uno dei miei inchiostatori con cui ho collaborato poi scansionavo tutto potevo aggiungere magari degli effetti delle dei livelli per fare gli schermi delle trasparenze e mandavo tutto quanto all'editore io ho cominciato a lavorare in digitale nel 2019 quando convinto da i miei amici del dello scheleton monster lo studio di cui faccio parte gli avevo visti lavorare con le pad e mi aveva colpito la manualità che mi ricordava tanto la gestualità della carta quindi l'ho sentito come una cosa più vicino a me e gli ho detto ok prendo un ipad vediamo come come va io non sei passato per la fatica sintic io ci ho provato ma non ci riuscivo con la sintic la usavo solo per impaginarmi e farmi capire rettangoli con photoshop delle vignette e basta la sintic non sono mai riuscito a disegnarci sopra tuttora una sintica anche di generazione non di ultima ma di generazione recente io non ci riesco è proprio una differenza di vuoi per la paper like che simula la rubidezza del foglio vuoi per la risposta della della apple pensile rispetto allo schermo delle pad però le pad per me è come se fosse un foglio e quindi io mi ci sento assolutamente a mio agio e soprattutto puoi lavorare dove vuoi ecco per me che viaggio tanto è tipo la cosa più bella del mondo esatto ma tanti disegnatori con i quali ho parlato hanno usato la sintic e poi quando hanno scoperto l'ipad non sono più tornati indietro sì assolutamente poi ripeto a me piace molto viaggiare tant'è vero che quando vengo invitato nelle fiere chiedo sempre di prendermi biglietto uno due giorni prima della fiera così ne approfitto per girare la città per viverla un pochettino e mi porto dietro le pad che nel caso ho delle modifiche da fare delle tavole da realizzare la notte quando torno in albergo mi metto al lavoro e questo mi dà una libertà incredibile assolutamente con una qualità e una resa professionale insomma non è non è un compromesso a cui uno scende anzi assolutamente esatto e dopo angel è arrivato madonna le cose non ci si fa staglie dietro ti dico io dopo angel è arrivato star trek ok sì perché poi si leggo anche tante altre cose poi serie collaterali perché pure di angel erano due serie tre serie allora considera che c'è stato proprio un periodo della mia vita credo dal duemila e sei al duemila e dal duemila e setta al duemila e nove in cui ho lavorato contemporaneamente a tre serie mensili per cui ho fatto una meraviglia di roba e lavoravo praticamente in parallelo fra idw image e marvel poi a un certo punto è arrivata anche la marvel verso il 2010 e però facevo tre serie in parallelo fondamentalmente quello era stato il fatto che ero stato spostato su star trek e io sono sempre stato invece un fan di star wars a me non piaceva non ci volevo stare su star trek però l'idea di chris era quando abbiamo sortito con angel con te angel è andato bene quindi voglio che anche star trek inizi con te perché secondo noi ci porti bene secondo me ci porti bene per cui io facevo di tutto per tornare su angel perché non ci volevo stare su star trek e quindi a un certo punto cosa facevano mi davano delle serie collaterali perché la serie principale di angel se ne occupava frank urru che era entrato poco dopo di mena di w presentato a chris e aveva lavorato con brian lynch sulla serie principale angel after the fall che fu un successo strepitoso per cui c'erano poi tutte le serie satellite riguardante angel quindi quelle dedicate a iliria dedicate a gun e via dicendo io lavoravo sulle serie satellite di angel proprio perché in realtà loro mi vogliono tenere su star trek perché paradossalmente per quanto io avevo fatto di tutto per far arrabbiare i fan di star trek e spingerti a mandare lettera di w dicendo mandate via questo tipo e invece i fan di star trek è piaciuto il mio lavoro e quindi continuavano a tenermi sulle serie di star trek finché alla fine sono diventato anch'io un fan di star trek e devo dire su questo ho avuto la fortuna di lavorare con due persone in particolare due autori ma uno in particolare scott tipton che erano degli fan innamorati della serie sono riuscito a trasmettermi l'amore per star trek scott mi ricordo mi mandava delle selezioni delle puntate più belle da vedere e mi spiegava la filosofia dietro i personaggi e alla fine devo dire che io ho fatto un po un approccio guidato a star trek quindi andando proprio a prendere delle cose particolarmente belle finché alla fine sono diventato anch'io un fan allora io sono del 70 quindi per me star trek è fondamentario sono trecchi dentro però io ero al cinema del 77 quando è uscito il primo star wars che ci ha stravolto tutti quindi è come tra mamma e papà per me star trek e star wars insomma io avevo tre anni e mezzo non ricordo nulla so solo che mi ci hanno portato perché mi hai mai detto no noi ti abbiamo portato sei stato zitto tutto il tempo non ci pareva vero che io avevo sempre rompevo le palle da piccolo è però era uno spettacolo per gli occhi per era una cosa che che non poteva non non rapirti però effettivamente quando uno poi arriva a star trek perché molti che dicono ah no star trek non mi piace è perché probabilmente molti non ci sono neanche approcciati perché poi si rendono conto che dietro c'è una una storia una psicologia dei personaggi che star trek era nato per parlare di temi che negli anni 60 in televisione non si potevano trattare ma spostati su un pianeta nel terzo quadrante se ne poteva parlare e quindi di razzismo di 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 manco di concentramento manca una filosofia in un qualche modo un approccio alla vita io questa cosa la racconto spesso ai miei studenti a scuola e quando sono stato alla fed con in germania che è la più grossa convention di fantascienze d'europa e ho avuto modo di incontrare molto quello che la fan base di star trek perché ero ospite per loro ed era bello vedere come in realtà quei principi quelli eh di rotenberry l'idea di solidarietà di aiuto di sostegno la vedevo anche nei piccoli gesti fra di loro nel nell'aiutare chi poteva essere in difficoltà e anche se non si conoscevano e ho visto un tipo di approccio differente tant'è vero che come fandom è uno di quelli di cui ho il ricordo e l'affetto più grande perché sono sempre stati estremamente eh teneri gentili io mi ricordo la gente quindi va da me con i dolci perché avevano letto sui miei social che sono golosissimo di cioccolata e è sempre stato un fandom sia quello spagnolo che tedesco in generale i trek sempre straordinariamente gentili disponibili e in un qualche modo hanno fatto loro quello che è il messaggio di rotenberry è vero e io dico sempre che magari arrivassimo a una società come quella che aspicava rotenberry sarebbe dal punto in cui siamo oggi sarebbe un passo avanti enorme per e per chiudere la la cosa su star trek serie preferita allora la mia il mio vero grande amore è quella l'originale la serie con kirk spok quella è quella che io amo di più però ecco c'è una puntata di ehm di Big Bang Theory che eh spiega bene il mio dramma quando a un certo punto chiedevano la serie preferita di star trek e non mi ricordo se fu Sheldon o Leonard a dire eh di original series ma Picard come capitano perché Picard sarà per il carisma di Patrick Stewart è un personaggio enorme è un personaggio gigantesco e anche la nuova serie di Picard che io ho apprezzato la terza stagione ma non ho amato le prime due le ho comunque guardate per il carisma di Patrick Stewart e per questo personaggio che io trovo bellissimo è vero però io mi sento più vicino a Kirk perché era meno cioè lui è più di ferro è più è più tutto di un pezzo Picard e mentre Kirk è un po' insomma cazzone esatto e quindi e quindi non lo so io mi ci ritrovo un pochino di più in eh è grandissimo Picard ecco c'è il busto lì dietro però è però sicuramente Kirk insomma poi non vorrei fare troppo il nerd però insomma l'unico che ha superato il test della goba Yashimaru quindi sì però l'ha superato in una maniera straordinaria io adoro il modo in cui l'ha superato che se dove è la cifra del personaggio esatto esatto è quello che poi me lo fa me lo fa amare e poi però è arrivato Star Wars oltre che Marvel ma in realtà è arrivato tantissimi anni dopo e paradossalmente avevo poi smesso di lavorare sulle sensing e in realtà ho deciso di smettere dopo che ho realizzato i prequel e i dei due film di Abrams che è stata un'esperienza molto molto bella un po' perché la prima volta che lavoravo praticamente e coordinandomi con la Optima online che stava realizzando il videogioco e con la Bad Robles che stava facendo il primo film quello il futuro inizia e noi dovevamo proprio quella buona tra di noi avevo accesso all'FTP della Paramount avevo dovuto firmare un quantitativo di N di app e non far sapere a nessuno quello che facevo e devo dire che condividevo la visione di Abrams perché lui ovviamente fan di Star Wars come me e amava la serie originale e se me ha preso questo spirito assolutamente da cazzone di Kirk e degli altri personaggi nel gettarsi nelle situazioni più estreme per cui mi sono divertito molto e ho amato molto raccontare la storia di Nero che purtroppo nei film non viene minimamente viscerata mentre invece trovo che sia un personaggio bellissimo quella forse una delle cose che più critico si lascia appena intuire nei film ci sia qualcosa dietro a una storia secondo me drammatica straordinaria questa dell'eroe caduto che impazzisce secondo me è una roba quasi Shakespeareana il personaggio di Nero e avendo sentito che non potevo dare di più sul sulle sensing in particolare su su Star Trek nel frattempo c'è stato anche True Blood che ho realizzato fra il primo e il secondo film di di Star Trek ho realizzato True Blood e anche lì su scelta di Alan Ball lo sceneggiatore e creatore di True Blood mi ha voluto proprio lui sulla serie come era stata all'epoca lo stesso Abrams a volermi per i prequel e avevo sentito che avevo fatto davvero tanto da quel punto di vista non potevo eh ottenere di più e True Blood in particolare fu un successo pazzesco tant'è che mi stupisce come adesso sia una serie dimenticata considerando che io ricordo quando andai a fare una signing session alle HBO store di New York la fila che girava intorno al palazzo e una roba impressionante non ho mai avuto una situazione del genere e adesso invece è una serie che non ricorda praticamente nessuno o in pochi tra l'altro volevo dire che per chi non magari non ce l'avesse presente Alan Ball è quello che è il genio dietro ad American Beauty è il genio dietro a Six Feet Thunder e l'ho amato da morire insomma eh io non ho visto detto questo boom proprio così Six Feet Thunder quindi lui è pazzesco ma infatti le due stagini True Blood sono bellissime secondo me e per cui lì mollai il licensing rifiutai tutti i lavori su licensing e per molti anni ho lavorato eh esclusivamente su eh supereroi horror ma qualsiasi cosa che non fosse legata a un film o una a una serie ehm fino a che poi nel nel recente post pandemia sono tornato su eh su Star Trek perché fui invitato a disegnare Conflict Q con questa mail che più o meno suonava il titolo come eh Davide ti va di disegnare l'end game del di Star Trek e quindi avevamo tutti i personaggi di tutte le serie di Star Trek che andavano a confluire in un'unica storia non potevo dire di no perché era una tentazione enorme e e poi mi ritrovai da lì invece su Star Wars chiamato da Mark Paniccia per aiutare Luke Ross che stava lavorando a eh the the World of Bounty Hunters ho cominciato aiutando appunto su questo evento eh Luke Ross finché alla fine di questi tre numeri eh in cui praticamente alla fine ho realizzato metà della serie e Mark mi propone di lavorare su Ian Solo e Chebeca che ovviamente eh come dire di no cioè stiamo parlando di Ian Solo e Chebeca e io sono chiunque a non non aver detto prima volta nella vita io voglio disegnare questi due personaggi e raccontare le loro storie da lì ho cominciato il mio viaggio nel mondo di Star Wars dove mi sono divertito tantissimo eh finalmente nel senso che era quello eh che da di di fantascienza americana che che volevi che volevi dall'inizio tra l'altro eh in mezzo eh in mezzo mi sembra o in mezzo anche contemporaneamente eh c'è c'è stato X-Men c'è stato Wonder Woman eh c'è stato Magneto c'è stato Capwoman c'è stato Capwoman c'è stato c'è stato Dagger e che com'è questa cosa di 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 lavorare di riuscire a di essere riuscito a mettere le mani su su sull'ottanta per cento della cultura pop americana esattamente questo nel senso ehm ci sono disegnatori che si arrivano a fare una serie Marvel o si arrivano a fare una serie americana così è già di oddio so e tu invece hai fatto cioè hai messo le mani ovunque e io perché sai il mio approccio era un po' quello del bambino nella stanza dei giocattoli eh volendo fare un esempio immaginati di prendere un bambino e metterlo nella più grande stanza con tutti i giocattori più belli del mondo dai Lego Star Wars ai Master Selection Figure della McFarlane e poi gli dici scegline uno con cui giocare no io voglio giocare con tutti eh sì voglio fare tutti e quindi ehm ho sempre evitato contatti in esclusiva mi sono stati proposti un paio di volte e ho prefitto dire di no lasciandomi la libertà di poter saltare da un progetto all'altro di poter decidere che cosa fare insieme o di farne tre insieme o di farne tre insieme assolutamente e e proprio di poter giocare con qualsiasi cosa in un qualche modo facesse parte del mio immaginario facesse parte eh di ciò con cui ero cresciuto ho dei personaggi ovviamente che amo tantissimo con cui voglio lavorare due gli ho raggiunti ora me ne mancano ancora altri cinque eh ma non ho fretta piano piano uno alla volta spero di poter ridisegnare tutti e fare delle runne cinque sono tutti Marvel no 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 sono Marvel DC ah ok perfetto per cui che spero prima o poi di avere modo di poter lavorare su ognuno di loro però ecco l'idea era quello proprio di trovare sempre un progetto in cui potessi avere qualcosa da dire ehm fare fumetto per fare fumetto approcciarmi al fumetto come se fosse un lavoro aziendale eh o impiegatizio no è una scelta difficile quella del fumettista perché impegnativo perché ti prende sabati ti prende le domeniche perché lavoro praticamente fino il giorno di Natale fino ad andare alla scena di Natale io fino alle sei sono al tavolo da disegno però deve essere sempre qualcosa in cui sento che mi sto divertendo in cui eh sto raccontando una parte della mia visione del mondo in un qualche modo perché è la vita che ho scelto è il lavoro che ho scelto e e voglio poter dire alla fine di tutto il percorso è stata una bella una bella cavalcata mi sono divertito ho giocato con i giocattoli nella stanza esatto e ci credo ma e per arrivare a tutto questo e aver fatto tutto questo quanto pesa il tuo talento ovviamente perché è il talento se no non avresti fatto tutto questo e quanto la tenacia e allora in realtà da questo punto di vista credo che la cosa che pesa di più è la tenacia nel senso che ehm come come disegnatore come professionista non mi reputo uno di quegli autori dal dallo straordinario talento ci sono eh dei disegnatori di miei colleghi che sono qualcosa di incredibile sono eh hanno veramente un un talento è nato e una facilità di disegno straordinaria e io personalmente mi reputo più una persona tenace una persona innamorata di questo lavoro e reputo di avere una buona disciplina una buona capacità di gestire quelli che sono i miei tempi i miei la mia le mie energie di saper ben dosare e calcolare come gestire il lavoro però ecco se ti dovessi dire ti direi che è tenacia quella che fondamentalmente è alla base del di questo percorso e di quello che sono riuscito a fare che poi ovviamente eh tu da disegnatore potrei dire ci sono dei miei colleghi che magari sono eh però ovviamente eh insomma quando uno guarda i tuoi lavori eh rimane affascinato e a bocca aperta quindi eh cioè è ovvio che poi da da disegnatore uno dice ci sono altri miei colleghi che magari tu ammiri e loro ammireranno te perché poi eh è capitato questa credo sia la duecentocinquantottesima chiacchierata che faccio e mh e tanti poi hanno parlato di te quindi eh quindi c'è eh ed è bello questo insomma che ognuno poi abbia delle belle parole per i per i suoi colleghi e abbia come ispirazione altri colleghi insomma quindi questa è una è una cosa fondamentale tra l'altro stavo vedendo che adesso a giugno esce un tuo star wars nuovo allora eh quindi gliel'hanno annunciato ok io ce l'ho su 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 um ehm comics box eh giugno duemilaventitré battle for the force capitolo tre battle for the force allora eh sai perché sono un po' interdetto perché ti spiego ho realizzato un racconto breve eh di Star Wars che è un racconto che va ad approfondire il percorso di un personaggio di una saga e che è stata introdotta in Jan Solo e Chebecca ma non so se è stata ancora annunciata e quindi come sempre poi c'è ah no 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 ok ok io da comics box leggo però non so se è una cosa che viene cioè che è già uscita in America tempo fa e quindi da noi perché c'è Star Wars The High Republic volume 2 numero 8 ok perfetto quello sì quello lo posso dire ho fatto il numero 8 di High Republic è già uscita in America e quindi uscirà adesso in Italia no in luglio 2023 sia quella italiana di data perfetto no io pensavo che fosse quella americana dato che già la serie ha cambiato tre volte titolo e non è stata io non ho ancora visto l'annuncio quindi non so se lo potevo dire esatto se rischiamo di fare un macello no 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 adesso ho solo detto che lì apparirò come Jedi per la prima volta in vita mia mi sono potuto disegnare come Cavaliere Jedi quindi sono ufficialmente nel canone di Star Wars non so ancora che nome mi daranno ma nell'altra Repubblica c'è un Cavaliere Jedi con la mia faccia no vabbè questo è il top del top credo eh sì c'è una cosa spettacolare cioè queste ecco queste sono le soddisfazioni nella soddisfazione del lavoro insomma quindi la parte nerd a tutti i reputi nerd da morire nell'accezione buona ovviamente che poi c'è chi la esatto sì c'è c'è un'accezione ancora chi chi molto molto meno di quando eravamo piccoli noi perché quando eravamo piccoli se eri nerd o se eri così eri un po' un soggetto insomma invece e non ce ne fregava niente almeno a me non me ne fregava niente però eravamo dei soggetti invece è quasi figo essere nerd quindi per fortuna c'è stato un cambiamento del della percezione dovuta anche secondo me molto a Big Bang Theory che citavo prima che ha preso un aspetto comico rendendo in un qualche modo tenero e la figura del nerd però sì rendendolo anche importante cioè quelle sono cose serie cioè nel senso quando uno va a rivedere Indiana Jones al cinema e deve fare la fila fuori eccetera eccetera sono cose serie non è una cosa da esatto parli con uno che con il suo studio si è andata a rivedere Akira che avevo già visto cinque volte però lo facevano al cinema abbiamo scelto la sala più bella che potevamo e siamo andati a vederlo certo perché è quello però io sono uno di quelli che ha davvero il frigorifero con l'apribottiglia a forma di Millennium Falcon e il tagliapizza a forma di Enterprise per cui sono proprio la più interessata esatto e come potrei vedere alle mie spalle insomma eh ti capisco perfettamente guarda questo perché sono allo studio skeleton dove sono dietro i libri e mi danno un'area un po' più da persona eh precisa e intellettuale se eravamo allo studio a casa mia avresti visto dietro le baccheche con le hot toys le mie collezioni di action figure di Hellboy le statue di Yux e via dicendo e certo immaginavo che ci fosse questa parte da collezionista ma e quindi tu alla fine poi in in Bonelli non hai mai disegnato no perché ci fu appunto quella quelle prove anzi quindi inizio su di personaggi che c'era una stile poi saltò tutto avevo realizzato anche le illustrazioni per il sito di Nathan Never che in qualche modo dovevano essere un po' all'anticamera per la serie anche lì saltò tutto e poi avrei dovuto realizzare una un albo delle storie sul testo di Diego Caglielli e anche lui caro amico e sceneggiatore che stimo moltissimo e avevamo iniziato a fare gli studi dei personaggi ci fu però un problema di tempistiche la Bonelli decise di anticipare l'uscita delle storie e per cui avevano bisogno dell'albo finito con dei tempi più stretti rispetto a quelli che avevamo concordato principalmente io non potevo perché ero già al lavoro su una serie di W sull'evento infestation quindi non potevo in quel momento interrompere e iniziare un altro albo per Bonelli quindi il progetto rinunciai che poi passò nelle mani di Matteo Cremona che è un disegnatore pazzesco straordinario e Matteo fece un lavoro incredibile e quello fu il mio ultimo approccio con la Bonelli per diciamo didattativa per provare a fare qualcosa insieme. I signori della Sergio Bonelli non vorremmo mica farci sfuggire questa occasione e se se dovessi disegnare un cioè il tuo personaggio Bonelli che vorresti disegnare? Bella domanda personaggio Bonelli che vorrei disegnare io sono stato uno degli innamorati di Nathan Never della prima ora però devo dire che vuoi per poter lavorare con il colore vuoi anche perché comunque l'horror è uno dei miei generi preferiti un Dylan Dog Color Fest dove poter dare una mia interpretazione di Dylan Dog e lavorare un po' sulle atmosfere sull'ambientazione londinese non mi dispiacerebbe ecco fosse un Dylan Dog Color Fest proprio per poter lavorare questa la lanciamo nell'etere tranquillamente guarda io ho un format non so se ti abbiamo mandato poi il link io ho un format tutti i giovedì sera e siamo al salotto di Sheldon ormai siamo arrivati questa sera la settantatresima puntata e giovedì scorso c'è stata Barbara Baraldi e prima uscita ufficiale su YouTube come curatrice di Dylan Dog e c'erano Roy, Mari, Fratelli Cestaro eccetera eccetera e noi gliela lanciamo questa cosa alla Baraldi per un per un assolutamente anche perché tra l'altro il color di io gliel'ho detto l'altra settimana in live il color di Dylan Dog e secondo me forse è la testata più figa di Bonelli in questo momento dove vedi delle cose sì c'è molta sperimentazione è una testata molto interessante assolutamente assolutamente sì sarebbe proprio perfetto sarebbe un numero da 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 collezione insomma quindi e l'ultima c'è qualcosa che non sia coperto ancora da segreto che deve arrivare di tuo e che magari è già stato annunciato? Allora non è coperta da segreto e però non è stata ancora annunciata ma è stata diciamo in un qualche modo gettata lì la cosa e con la fine di trikis per l'image abbiamo finito la la miniserie l'abbiamo raccolta in un volume in image il volume ha un epilogo e il quale apre a una serie di come potremmo definirlo di nuovi progetti che sono in un qualche modo collegati a trikis ma non sono il continuo di trikis ora sono a lavoro sul primo di questi progetti di nuovo con manfredi toraldo e ci siamo messi a lavoro su questo progetto che sarà un one shot che se tutto va come previsto dovrebbe uscire il prossimo anno però ancora non l'abbiamo annunciato anche con chris rial e nella sua mailing list e in un paio di interviste ha già detto con davidi siamo a lavoro su altro dopo questo primo progetto con manfredi ce ne sarà un altro ancora tutto mio testi disegni e colori esattamente come è stato per trikis quindi diciamo che fondamentalmente sto cercando di costruire un piccolo universo narrativo e di personaggi creati da me e in un qualche modo collegati fra di loro ma leggibili separatamente qualcosa che possa essere goduto e in maniera indipendente autonoma ma che se vengono letti tutti insieme si trovano i punti di contatto e il modo in cui questo universo è collegato e unito fra di loro bellissimo e poi stai continuando a lavorare comunque su star wars e quindi allora adesso sono star wars ho finito questo racconto breve e siamo alla preparazione di un progetto però è un progetto lungo che coinvolgerà anche piani alti da lucasfilm per cui diciamo ci vorranno qualche mese per metterlo a fuoco certo certo e nel frattempo sto lavorando a rocketeer che era un altro di quei personaggi e sognavo di poterci lavorare e sono lavoro su questa miniserie di quattro numeri di rocketeer e scritta da steven mooney di nuovo con scott d'ambier che è stato il mio editor per star trek ma che era l'editor di gen tredici quando si trovava alla wild storm ed è un lavoro in cui mi sto divertendo tantissimo un po perché rocketeer è sempre stato uno dei miei personaggi di culto molto del mio modo di disegnare viene da dave stevens e da da muse e poi nell'ambientazione ti ci vedo io infatti mi trovo assolutamente a mio agio anche perché scott mi ha lasciato una libertà creativa pazzesca cioè lui mi ha detto quello che hai fatto con trickis rifallo con rockete divertiti e quindi sto sperimentando sto facendo il colore e sto utilizzando cose come gabbie in stile art deco per strutturare le pagine e sto lavorando con una libertà creativa pazzesca e con uno sceneggiatore straordinario che essendo anche lui un disegnatore mi alza spesso la palla a poter disegnare cose che a me piacciono molto perché abbiamo anche delle sensibilità molto vicine io e Steven money e quindi è bellissimo perché ne parli con gioia e con divertimento con l'acquolina in bocca quindi è bellissima questa cosa io ti ringrazio enormemente grazie a te della tua gentilezza e del tuo tempo e ti rifaccio i complimenti e in bocca al lupo per il tuo lavoro e tutto quello che arriverà vive il lupo grazie ancora grazie a te grazie a te grazie a te